La città metropolitana con la consiglia di parità è in piazza per il flash mob insieme con il comune di Napoli, in un momento in cui la discriminazione, il razzismo sta prendendo piede noi diciamo no con un gesto di gentilezza, attraverso la gentilezza noi decidiamo di essere a favore dell'amore dell'amore totale verso l'altro in qualsiasi forma, che sia l'amore tra un uomo e una donna, che sia l'amore tra due uomini che sia l'amore tra due donne, che sia l'amore universale dell'essere umano verso un altro essere umano Oggi è davvero un onore per noi stare in questa piazza a sostegno di questa giusta causa ma soprattutto a sostegno di tutte le forme di discriminazione, pertanto anche in qualità di insegnante il coinvolgimento delle scuole è fondamentale perché tutto nasce proprio dai primi anni scolastici di conseguenza saremo sempre attivi sul territorio proprio per evitare ulteriori forme di discriminazione verso i più deboli se così li vogliamo definire Oggi siamo qui contro le discriminazioni, discriminazioni di genere, discriminazioni etne, religiose, discriminazioni razziali quindi siamo qui per sensibilizzare non solo i giovani ma l'intera cittadinanza contro ogni forma di discriminazione E oggi come sempre siamo in piazza per dire basta all'omofobia, per dire basta alla bifobia, per dire basta alla transfobia per dire basta a qualunque tipo di odio e avversione colpisce la comunità LGBT Cosa fax? Cosa fax? Cosa fax? Cosa fax? Cosa fax?